Amici dello Scorpione, tocca a voi! Sì, per lo Scorpione è una giornata negativa perché purtroppo questa è una luna che vi preoccupa vi preoccupa tantissimo in questo momento ad essere messi sotto pressione sono soprattutto i rapporti professionali e devo dire anche le spese in aumento che non vi fanno dormire tranquilli magari avete dovuto affrontare una spesa non prevista e questo ha creato qualche piccola difficoltà non dovete comunque disperare perché il transito di Mercurio nel segno dell'acquario non sarà lunghissimo e quindi già nei prossimi giorni potremo parlare di una situazione che torna serena da un punto di vista economico, finanziario ma è chiaro che questa luna vi invita ad essere parsimoniosi Allora amici, tre elementi Bologna, città...